Cari Vergine, la luna migliore della settimana per assolvere impegni di lavoro importanti, sostenere colloqui, magari intavolare delle trattative, ci sarà mercoledì pomeriggio, giovedì e anche domenica. Utile quest'ultima soprattutto a divertirvi, a passare una giornata di riposo se non lavorate, senza pensare alle cose brutte. Anche perché da venerdì questo Giove che si pone in orbita un po' stortarella per più o meno un anno, non è che porta cataclismi, chissà che cosa, però è un Giove che vi chiede prudenza nello spendere e nello spandere anche parole, perché Giove è il pianeta che governa l'uso della parola. Sappiate vendervi bene, senza spendere frasi di troppo o senza tacerne troppe, quindi è un momento forse di prudenza da osservare, però l'amore va bene e la fornicazione tutto sommato soddisfa.